Facciamo un appello a tutti gli elettori di recarsi alle urne in modo disciplinato e tenendo conto di queste cautele che devono essere osservate, in primis la distanza fra le persone. Percorsi separati tra ingresso e uscita, mascherina obbligatoria da abbassare per l'identificazione, l'igienizzazione delle mani prima e dopo aver votato e questa volta sarà l'elettore a inserire la scheda nell'urna. Negli uffici elettorali è in corso la predisposizione dei materiali. In parallelo si lavora la messa a punto del voto domiciliare. Il Ministero lo prevede per i positivi in isolamento ma anche per chi è in quarantena fiduciaria di rientro d'area a rischio o in attesa di test. Il termine per farne richieste era il 15 settembre, nove le domande arrivate nel Materano, nessuna nella provincia di Potenza. Non è un termine perentorio però attenzione che bisogna armonizzarlo con la disposizione di legge che prevede che il sindaco entro il giorno prima delle elezioni deve assegnare una sezione elettorale la persona che vuole esercitare il diritto di voto. Nessun problema per il voto referendario. Confluiranno nel seggio speciale dell'ospedale di Matera anche le schede del voto domiciliare. Tre in città, tre a Salandra, due a Tricarico e una a Garaguso. La stessa procedura sarà seguita per i materani che voteranno a domicilio per le amministrative. Non potranno invece partecipare alle consultazioni per il sindaco i tre salandresi perché, secondo la prefettura di Matera, la legge prevede da un lato che la sezione elettorale sia istituita presso un reparto ospedaliero Covid, dall'altro che le schede siano scrutinate nel territorio del comune al voto.